Ciao, sono Paolo Passano e sono uno chef ideatore delle agri ricette della Bilaia ed è proprio delle agri ricette che ti voglio parlare. Sì, perché ho preparato una serie di video e mail che ti spiegheranno come preparare piatti nuovi, semplici e sfiziosi con prodotti liguri. Che tu sia una persona appassionata di cucina oppure qualcuno che è entrato in questo bellissimo mondo ma qualche titubanza o perplessità sulle proprie capacità, che tu sia una persona sempre alla ricerca di ricette nuove da preparare per te, per i tuoi amici o per i tuoi cari, non c'è problema, sei nel posto giusto. All'Università di Scienze Gastronomiche in Piemonte ho imparato che la tradizione se non è rinnovata muore. Da questo concetto ho ideato i miei piatti partendo dalla materia prima ligure e rivisitandola in cucina nel pieno rispetto delle nostre tradizioni ed è questa la filosofia che applico nel mio agri ristorante Labilaia Lavagna e sebbene abbia aperto da soli tre anni non posso che ringraziare i miei clienti, mass media e l'opinione pubblica per tutte le attenzioni che mi hanno riservato. Una motivazione in più per me per portare avanti questo messaggio con entusiasmo che mi ha unito di più al mondo della ristorazione e dell'alimentazione interpretandola e vivendola come una vera e propria forma di cultura da diffondere e da condividere con tutti. Ma torniamo a noi, se desideri riproporre le mie agri ricette clicca qui sotto oppure vai sul sito www.labilaia.it e inserisci la tua email. Potrai così scoprire le mie video ricette e anche i prodotti liguri e come utilizzarli proprio come faccio io qui dal mio agri ristorante Labilaia. Ciao, a presto!